Si apre il sipario e vanno in scena le cento e più sfumature del ballo per la dodicesima edizione di Danza in Fiera, dove tutti i generi, gli stili e le anime di quest'arte saranno riuniti alla Fortezza da Basso di Firenze dal 23 al 26 febbraio. Lezioni, mostre, convegni, spettacoli e gare pensate per chi vive la danza come passione, ma anche per chi nel ballo cerca un'opportunità sul piano professionale. Presente Virginia Tomarchio, vincitrice di Amici 14 e protagonista del Red Bull Flying Back, che si esibirà con il ballerino venezuelano Lidl G. Anni fa, tanti anni fa, ho partecipato a un concorso qui a Danza in Fiera. È stato bellissimo anche perché è stato il mio primo concorso dove c'erano tante persone che gareggiavano e quindi eravamo tanti partecipanti e l'ho pure vinto. Danza in Fiera rappresenta per i giovani talenti l'opportunità di entrare in contatto con le più grandi realtà formative italiane e straniere. La Fortezza da Basso di Firenze diventa un luogo d'incontro tra le promesse della danza e talent scout. Questa cosa per me è stata importantissima perché è stato uno degli elementi che mi ha fatto capire che forse dovevo continuare e fare questo della mia vita. Il balletto che Virginia presenterà a Danza in Fiera unisce il mondo della danza classica a quello della breakdance. Tra le novità di quest'anno ci sono anche le performance estemporanee di flamenco, swing, pizzica e hip-hop in giro per le piazze fiorentine. Grazie. Grazie. Grazie.